Devo andare avanti. Coraggio, puoi farcela. Muoviti. Un vecchio accampamento. Ok, ok. Devo accendere a fuoco. Ok. 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 È deciso da poco. Niente carne. All'accampamento, Luca. Dai, forza! Dai, forza! I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il manufatto è qui, lo troveremo. E i difendenti? Continuano a opporre resistenza. Ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Bene. La Trinità confida in voi. La Trinità. Mi servirà un arco più resistente. Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. Ma non morirò. Non posso. C'è qualcosa qui. Ci deve essere. Altrimenti la Trinità non sarebbe in questo inferno di neve. Spero solo che Giona stia bene. Che abbia trovato la strada del ritorno. Non... Non voglio mettere a rischio la sua vita. Non di nuovo. Non riuscirei a sopportare il dolore di perderlo. Questo è il mio cammino. Solo mio. Quello, Grazie a tutti. 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 Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente, se potessi. Ma stavolta... È troppo pericoloso. Lara, ascoltiamo. Un giorno tu farai qualcosa di importante. E' un'altra, da un'altra... e' un'altra... E' un'altra... E' un'altra... Questi fogli dovrebbero fermare l'emorragia Mi serve una venda o qualcosa di simile Una struttura abbandonata per i topi del barato Chiedi invece per la prima ragione Ora va meglio Altre rovine mongole Sembra che la strada li attraversi Devo superare quell'orso La strada li attraversi 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 Devo riposarmi Ho freddo Sono stanca No, ascoltami tu Questa scoperta è troppo importante Meno in fischio della mia reputazione Non mi starai minacciando Dopo tutto quello che ho fatto Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi Mi fai paura? Ci sono quasi là Sto scoprendo qualcosa di importante Un giorno Capirai Io non voglio capire Voglio che tu la smetta Che torni a essere mio papà Sofì, mi fermarti Forza, ce li abbiamo Corri, vai Vai Eliminatela No, non è No, non è Tutte le squadre arrapposte. Com'è la situazione? Passo. C'è un altro accampamento qui. Braci ancora ca... C'è un altro accampamento.